non c'è una, qui sto un poco più avanti di prima degli alberi, queste sono le fale non riesco a farvele bene perché, ecco questa qui rossa è la fala tipica e lì se vedete c'è il mare, ecco questa è un'altra fala gialla e il mare è questo, laggiù c'è la barriera Corallina dove si infrangono le onde e in pratica, allora, no scusate, oltre questa linea si infrangono le onde e da quest'altra parte verso me è calmissima, questa è il mare, questo qua che vedete, un'altra fala e praticamente non c'è nessuno, praticamente non c'è nessuno, questi ecco sono degli alberi con queste belle radici. Grazie. Grazie.